benvenuti in egitto in un altro gioco della best serie perché la prima serie è la migliore chi gioca sulle moto fa schifo la prima serie seguita dalla quarta serie come bellezza Yu-Gi-Oh! Zexal è bello che ci sono le carte numero il mio nome è così pochi spazi non posso mettere Gianfranco mannaggia adesso metto una recensione negativa sul gioco spero ci stia perfetto chiamo Maron oh mio dio il torrent di battere la city oggi Maron ciao Maroni preparato il deck il nuovo deck davvero speciale ci ho messo tutta la notte ma il migliore di tutti Maron hai preparato un buon deck no ma che scherzi dai sbrigiamoci c'è tempo potenzialo mentre combatti dai andiamo non facciamo tardi gne tronco deck maschera dell'oscurità doron doppio che cos'è abisso oscuro ma è buco nero vortici di tenebre che risuogli tutti gli esseri senza pietà li sono visti mostri sul campo urna di mutazione cosa sto guardando che ti dicevo gne sono tutti qui e guarda che forti sveglanti sì che cosa emozionante sì ho capito sei figo perché hai soldi fotti le regole tenete duro gne yugi e Maron speriamo ehi non farai il pessimista gne Maron gne concentrati ce la farai gne sì mettiamocela tutta Maron ma ehi oh oh fair 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 oh mio dio mi sta calpestando calmati c'è sempre tempo per morire ma queste frasi chi le ha scritte oddio è quello che gne 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 questo non gliela faccio vedere io vinceremo i migliori a tutti gne no questa è però la voce che hanno Rex e e bruchido mannaggia dopo le nove eh non mi faccio a far passare il tempo ti stai montando la testa ma e evoco fatta isterica che gioco di ho perso contro un cane bau che schifo sei tornato figlio di una buona madre dopo ci rivedremo eh tranquillo sì sì arf arf tua mamma vattene oh come sei impaziente ma il torneo non è ancora iniziato al prossimo incontro ti faremo una festa oh il negozio del nonno non è ancora il momento ma mi batto solo sei in gamba altrimenti mi fai solo perdere tempo dove devo andare buon signore ho capito che non sono ancora le nove quando è che sono le nove mannaia i vicoli del Bronx ma ma bel posticino cos'è il giardino di Luigi's Mansion scusate sì ho capito ma perché bruchido se ne va e gli altri no cosa devo fare ahhh buon bambin Gesù ma quando è che inizia no ehi si comincia ok andiamo io non perderò mai era ora 2 wheeler ti farò vedere io io sono il dual king e qui lo proverò e cosa me 7 completati usa come ante no eh e cosa devo mettere in palio scusa è il mio turno tocca a Maron lumaca fulminante attivo ah un fuori della vita lo so fammi pescare ah già pescato d'accordo dio santo che carte di m***a fine turno è il mio turno oh no ho messo una carta settata ahhh c'è davvero questo qui di livello 5 è da 14005 evoco lancia demente perché è stupida no ahhh 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 che gioco di m***a non possono veramente esserci questi mostri seriamente oh mio dio muorici vai eeeh eheeeh la capacità del tuo deck è aumentata di 5 cosa sta a significare ahhh ahhh